Crisi all'accorghi, dipendenti in sciopero per salvare la produzione e posti di lavoro all'azienda che realizza macchinari per gommisti a Piave Fosciana. Il Tar sospende lo sgombero dei Rom da Torre del Lago e il Tribunale ha bloccato l'ordinanza firmata dal sindaco del Ghingaro dopo l'allarmante relazione ASL sulle condizioni igieniche. Giro di vite contro furti e rapine, anche la polizia di Lucca ha partecipato all'operazione nazionale denominata Safety Car. Emozionante serata nel ricordo di Bigazzi, l'epilogo del premio dedicato al grande autore, in scena 60 artisti da tutta Italia, Noi TV media partner dell'evento, ma andrà in onda la finale giovedì sera a partire dalle 21. Lo sport ora si comincia a fare sul serio, Lucchese impegnata sul mercato, si allontana forte, ma Obedio può chiudere per coragli. Le mura è quasi fatta e Diamanti ci crede, dopo la Angon Joc, la Battisodo e lo Starting Five, in arrivo anche la Tognalini dal Vigarano. Ben trovati, nuova edizione del TG Noi, primo piano i problemi dell'occupazione, andiamo all'Accorghi di Pieve Fosciana per lo sciopero dei dipendenti. Siamo in sciopero oggi perché il piano industriale, oltre a prevedere gli esuberi, che saranno circa 12 persone, non ci convince perché c'è una rinconversione tutta di questa azienda verso il montaggio. Questa azienda storicamente è un'azienda che ha prodotto dal grezzo fino al prodotto montaggio, quindi sia la carpenteria, sia le macchine utensili e poi il montaggio. Arrivare a una rinconversione di solo montaggio sembra quasi un disimpegno da parte dell'azienda verso un territorio che è già problematico. Sono le parole di Fabio Bertei durante il presidio e in occasione dello sciopero di otto ore indetto dai lavoratori dell'Accorghi, azienda con sede centrale a Correggio che occupa 800 persone in vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale, di cui 80 oltre nella sede storica di Piave Fosciana. La Correggio produce macchine professionali di alto livello per gommisti. Da circa un anno i dipendenti hanno applicato i contratti di solidarietà per far fronte ad 11 esuberi segnalati dalla proprietà. Il nuovo piano che l'azienda ha presentato a Piave Fosciana non prevederebbe però investimenti ma limiterebbe il lavoro all'assemblamento di pezzi lavorati altrove. Con lo sciopero i lavoratori mirano a far sentire la propria voce all'azienda. Chiediamo che prima di tutto di poter tornare al tavolo con una risposta ben precisa da parte dell'azienda. Queste sono state le prime otto ore di sciopero e votate in assemblea. L'assemblea ha votato un pacchetto di 16 ore di sciopero. Quindi oggi abbiamo scioperato per otto ore. Ora attendiamo che l'azienda si faccia sentire. La cronaca. Oggi i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per il soccorso e il recupero di un escursionista a sessantenne caduto in un dirupo in località Giardinetto Ponte Maggio a Bagni di Lucca. Le condizioni di salute sono apparse subito gravi. È stato stabilizzato dal personale del 118 e recuperato dai vigili del fuoco. Mercoledì 29 giugno è una data in qualche maniera storica. La provincia di Lucca riaprirà a doppio senso di marcia la strada regionale 445 della Garfagnana in località Acquabona, all'altezza del cantiere aperto dallo scorso settembre per la sistemazione del versante montuoso franato nel 2014. Sarà una riapertura a doppio senso condizionata comunque dai prossimi interventi sul versante. L'impianto semaforico che finora regolava il senso unico alternato infatti sarà spento per l'alternanza rosso-verde ma rimarrà lampeggiante come avviso di presenza del cantiere. Lo sgombero del campo rom di Torre del Lago continua a far discutere perché il TAR ha bloccato l'ordinanza firmata dal sindaco di Viareggio. Lo sgombero del campo rom di Via Cimarosa a Torre del Lago è stato momentaneamente sospeso dopo che la comunità rom si è rivolta al TAR tramite gli avvocati Elisa Vannucci Zaoli e Valentina Ceragioli che hanno chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Del Ghingolo il 21 giugno che dava come termine ultimo per abbandonare il campo le 18 di sabato 25. Nonostante che l'ASRA abbia constatato in seguito ad un sopralluogo che il campo ha delle carenze igienico-sanitarie, il TAR ha accorto il ricorso per consentire agli occupanti il campo di procedere allo sgombero. La Camera di Consiglio è fissata adesso il 12 luglio per la trattazione. L'assessore alla libertà urbana Maurizio Manzo ha preso atto della decisione del TAR. Devo dire che l'amministrazione a questo punto si solleva da tutte le responsabilità che ne conseguono. L'ordinanza che avevo firmato alcuni giorni orsono era riferita in particolare alle condizioni igienico-sanitarie di quelle persone che abitano dentro il campo nomadi. Il sindaco è obbligato a prendere provvedimenti in questo senso. Se il TAR ha ritenuto opportuno concedere qualche giorno in più, è chiaro che il sindaco è sollevato dalle responsabilità e ci saranno altri che dovranno assumersene queste responsabilità, perché il pericolo è veramente alto. Noi vogliamo dismettere un campo che ormai non ha ragione di esistere, vogliamo fare un percorso di integrazione con le persone che vi abitano, in collaborazione naturalmente con le associazioni, con le caritas e con i gruppi parrocchiali. Questo è quello che abbiamo detto di fare e lo faremo. Intanto l'Associazione Nazionale Roma ha fatto ricorso alla Corte dei Diritti Umani di Strasburgo per chiedere la sospensione dello sgombero. Paolo Fusco, 32 anni, centravanti del Pietrasanta Calcio, è ricoverato all'ospedale Versilia in seguito ad un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare di Forte dei Marmi. Fusco viaggiava in sella ad uno scooter, si è scontrato con un SUV nell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto riportando serie contusioni, originario di massa. Il calciatore è stato uno dei punti di forza del Pietrasanta nell'ultimo campionato di eccellenza. A Fusco l'imbocca al lupo anche di tutto lo staff di Noi TV. Parliamo adesso dell'omicidio Guidotti, vi ricorderete il 20 giugno del 2015, Nicola Guidotti uccise il fratello Mario con quattro colpi di pistola di fronte al loro ristorante il mezzo marinaio in Darsena a Via Reggio. Ebbene c'è stata una super perizia, due periti incaricati dal giudice del Tribunale di Lucca, Silvia Mugnaini, per capire se l'uomo al momento di sparare fosse stato capace di intendere e di volere. Ebbene la super perizia ha confermato che Nicola, dopo i vari litigi che si erano ripetuti nel corso degli anni, che l'hanno portata a quell'insano gesto, era comunque capace di intendere e di volere. La difesa aveva puntato invece su questo aspetto il 12 luglio con rito abbreviato la sentenza per Nicola Guidotti. E allora parliamo adesso dell'operazione nazionale Safety Car, operazione della polizia contro furti e rapine di auto, è stata coinvolta anche la polizia di Lucca, sentiamo di cosa si tratta. La polizia di Stato ha portato a termine sul territorio nazionale l'operazione Safety Car, volta a contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine in danno di auto, motoveicoli e autocarri. L'operazione si è svolta anche con l'ausilio della tecnologia denominata Mercurio. Il nuovo sistema di rilevazione rappresenta il prodotto d'eccellenza per il controllo del territorio. È costituito da un tablet e da una telecamera esterna dotata di zoom ottico ad alta efficienza, utilizzata per la videosorveglianza e mobilità ed il servizio di lettura automatica delle targhe. In particolare, nei quadranti più sensibili della città di Lucca e della provincia, sono state impiegate 70 battuglie tra quelle della squadra volante, del reparto prevenzione crimine, della polizia stradale e della polizia ferroviaria, che nelle giornate del 20 e 23 giugno hanno controllato 669 persone, 1166 autoveicoli con modalità automatiche e 379 con sistema tradizionale. L'operazione ha anche consentito il rinvenimento di una Fiat Punto, sottratta al legittimo proprietario, in data 20 giugno, sulla via Sarzanese, in località Maggiano. Chiusa per gran parte della mattinata, via Vecchia Pesciatina, lunata, per un incidente fortunatamente senza, feriti gravi che si è verificato all'incrocio con la via Lombarda. Una Iaris che procedeva in direzione Capanderi si è scontrata con una Seat che si stava emettendo sulla via Lombarda, sul posto i vigili urbani di Capanderi e un'ambulanza che ha prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto. Il 2 luglio, secondo il calendario della regione toscana, partiranno i saldi estivi. I saldi recita una nota di Confcommercio che rappresenta un momento importante per un'attività soprattutto da qualche anno a questa parte in cui la crisi economica ha drasticamente ridotto gli incassi. Purtroppo, come sempre, molti negozi hanno messo in atto pratiche di concorrenza sleale che hanno di fatto anticipato le liquidazioni di almeno un mese attraverso i cosiddetti saldi mascherati. È un malcostume diffuso, dice Confcommercio, possibile, passibile peraltro, di pesanti sanzioni. Comunque il 2 luglio iniziano i saldi. E adesso parliamo di piano strutturale, una giornata per comprendere il futuro del Comune di Lucca. Un workshop per aiutare meglio i cittadini a comprendere lo strumento del piano strutturale recentemente adottato dal Comune di Lucca ed offrire un ulteriore ausilio alla cittadinanza per riuscire a formulare osservazioni. Organizzata dall'osservatorio partecipato lucchese, la giornata di studi verrà organizzata venerdì 1 luglio nella Sala Maria Luisa di Palazzo Ducale dalle 16 alle 19. Ad illustrare e approfondire le varie tematiche affrontate dal piano saranno i professori Paolo Baldeschi e Claudio Greppi della rete dei comitati toscani, accanto ad Alessandro Di Vito del Comitato Lucca Est, il geologo Roberto Balatri e Michele Urbano di Lega Ambiente. È un ruolo importante, quello di una presa di coscienza anche di uno strumento importante per la nostra città che determinerà il futuro da qui ai prossimi 15-20 anni e quindi anche un momento di discussione, di approfondimento, di avvicchimento in cui far conoscere il piano, il suo significato, la relazione con gli strumenti sono ordinati, quindi è previsto l'incontro sia con docenti sia con persone che si relazionano col territorio, associazioni, comitati e quindi conoscono un po' le criticità per avanzare anche proposte, suggerire anche osservazioni, spiegare ai cittadini come si fanno le osservazioni, dare una lettura anche dall'esterno tramite i docenti che possono dare una lettura terza rispetto anche a quello che già sarà data dal percorso che sarà avviato dall'amministrazione comunale, quindi è un complemento a quanto c'è già stato, è un arricchimento che intendiamo dare. Parliamo adesso di un accordo fra la Camera di Commercio di Lucca e Club Lions di Lucca e Massa Carrara che garantiranno un contributo economico per il sostegno all'inserimento di due start-up al polo tecnologico. Contributi a fondo perduto dell'importo fino a 2.000 euro a favore di imprese giovanili che sviluppano e maturano le proprie attività nel campo delle nuove tecnologie destinate alla copertura dei costi per il servizio di insediamento nell'incubatore del polo tecnologico lucchese. Questo è l'oggetto del service, frutto di un accordo tra nove Club Lions presenti nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, Antiche Ville Lucchesi, Garfagnana, Lucca Ost, Lucca Lemura, Pietrasanta Versilia Storica, Massarosa, Massa Carrara Puana, Massa Carrara Ost, Via Reggio Versilia Ost, le Camere di Commercio di Lucca e di Massa Carrara ed il polo tecnologico lucchese. Tra tutte le domande pervenute che rispettano i requisiti del bando di incubazione del polo tecnologico lucchese saranno premiate con il contributo a fondo perduto le prime due classificate a seguito della selezione da parte del comitato di valutazione. Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto imprese costituite da non oltre 36 mesi da giovani con età media non superiore a 30 anni che operano prioritariamente nei settori innovativi. Sì, questa attività di servizio come ha accennato si rivela importantissima per tre fondamentali motivi. Il primo che riunisce per la prima volta insieme i club Lions di due province, quasi tutti i club di tutte e due le province, nove club, sia di Lucca che di Massa Carrara in uno sforzo per raggiungere un obiettivo comune che è quello di dare sostegno ai giovani. Il secondo è quello che la scelta è caduta su giovani che si occupino di nuove tecnologie, del mondo delle idee e quindi favorire la creatività. E il terzo è l'unione fa la forza insieme alle Camere di commercio di Lucca e Massa Carrara per occuparci veramente dei nostri territori. Il contributo destinato all'impresa giovanile garantisce la possibilità di avviare l'azienda del progetto innovativo presso l'incubatore del polo tecnologico lucchese. Con queste iniziative i club Lions vogliono contribuire a favorire e sostenere l'imprenditoria giovanile nelle province di Lucca e Massa Carrara attraverso la valorizzazione e la promozione delle competenze imprenditoriali e creative dei giovani nel settore strategico dell'innovazione tecnologica. Adesso parliamo di un evento per il mondo culturale e dello spettacolo, la terza edizione del premio Bigazzi della quale Noi TV è stata Media Partner. Non ha deluso le attese la terza edizione del premio nazionale Giancarlo Bigazzi svoltosi al Teatro Nieri di Ponte Amoriano. Sono risultate vincitrici Luana Frazzitta per la categoria interpreti e Eleonora Tirrito per la categoria cantautori. Luana Frazzitta, 16 anni, di Livorno, si esibita con una versione calda e sensuale di E penso a te, mentre Eleonora Tirrito, 23 anni di Massarosa, ha vinto suonando e cantando la sua canzone inedita intitolata Una Storia che non c'è. Vincono inoltre il premio speciale miglior testo Andrea Battantie, 36 anni, proveniente da Cagliari, mentre Alessia Rena, 43 anni di Firenze, si è giudicata al premio della critica. La targa in memoria di Marco Lazzeroni, storico collaboratore della manifestazione prematuramente scomparso, è stata assegnata ad Anna Re Persiano di Alto Pascio. La serata, presentata da Mattia Di Vivone e Simona Agliatta, ha visto la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo e della musica, ma anche dei piccoli e talentuosi musicisti del quinto circolo didattico di Lucca che ha omaggiato la famiglia Bigazzi, presente in sala, con un medley dedicato al grande Giancarlo, l'indimenticabile geniaccio della musica italiana. I 13 finalisti sono stati giudicati da una giuria qualificata. I vincitori si esibiranno il 26 luglio sul grande palco del Summer Festival di Lucca, nel corso della serata dedicata ai giovani talenti. Il premio Bigazzi 2016 andrà in onda su Noi TV, giovedì prossimo 30 giugno alle ore 21. Adesso vi facciamo vedere delle immagini che ci sono state inviate da Mariano Guidi. Il nostro telespettatore le ha girate questa mattina in via Iderfonso Nieri, dove i marciapiedi sono praticamente impraticabili a causa dell'erba lasciata crescere, divenuta ormai altissima. Lo potete apprezzare, non si vedono le macchine passate dietro. Davvero un brutto biglietto da visita per la città, visto che le immagini sono state girate a pochissime decine di metri dalle mura nella zona che porta la rotonda di Viale Europa verso l'autostrada Firenze-Mare. Ringraziamo il nostro telespettatore, speriamo che queste immagini servano per smuovere coloro che devono occuparsi di sfalcio e decoro urbano. Infine una notizia per la costa. Sono nuovamente consentite la raccolta, la commercializzazione, trasformazione e emissione al consumo umano delle arselle provenienti dalla zona compresa tra il confine del comune di Vecchiano e il porto di Viareggio, denominato Transetto 1 di Levante. Recenti controlli delle acque e dei molluschi del litorale interessato hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. È tutto per la prima parte del TG Noi, un breve break, poi la pagina sportiva.